Quindi sono, per il primo round, sono cinque accoppiamenti, di cui uno combatte due volte. E' da solo? No, combatte due volte. È facile, allora vi spiego. Bisogna fare le accoppie. Allora, vi ricordo, prima di tutto, che chi vince questo torneo diventa imperatore per una settimana intera. Decide tutto lui. Una settimana di imperatore! E avrà anche la corona! E avrà la mia corona per questa settimana. Ma sto già sudando però! Io e Cico abbiamo giocato la bucket da cadere col bucket. Lui ha perso e io ho perso! Pucci, pucci! E lui, è il pari di giro, è il pari di giro. Il pari di giro è il pari di giro. Prima coppia, abbiamo detto... Io non mi rendo aiutato. Cosa ho detto prima, Alex e paga? Hai detto me e Cico. Alex e paga. Eh sì, di non parlare da soli. Alza quel culo marcio. Scusami. Lo tolgo pure. È l'unico seduto. Lo so, lo so. Beh, che non si troppa l'inventario. No, no, è dell'arena. Però l'ho detto in ritardo. No, stai zì. Ma nessuno ti ha cagato. Ma nessuno sa fare di qualche minuto. No! Assolutamente sì. Ma io dietro di te, dietro di te. Qua c'è un inseguimento pazzesco. Ma che male! La mia pozione... Ma no, sentilo! Ma è passi in cuore! Attenzione! Attenzione! La pozione di forza! Alex sfrutta la sua pozione! Strecatto scappa come un vile. Però, vabbè. È così! È una tattica monata! E parte la strategia... Una strategia un po' davidiaca. È una tecnica! È una tecnica! Ma ancora, aspetta! Non ho paura! No, sono tantissima! Giorgia, usa la mela prima che sia troppo tardi. Fidati! Usata la mela! Ok, l'usate! Vabbè, adesso girati a taglia! Salta! No, sale le mani! Madonna mia, che disastro! Vai, vai! Sì, ci sono! Mi si sta salendo! Attenzione! Feri Dragonfix! Grazie! Che booming schiacciante! Che mi piace! Attenzione! Giorgia vince perché... 2-1! 20 secondi FK di Feri! No, allora... Bravi! Scusa! Ha scopato un po' di... Vai! Ma no, guerrite! Grazie! Che wrestling pazzesco! No! Vabbè! Attenzione, è finita con 3-1! Non è mai finita! 3-1! 3-1! Mi raccomando, utilizzate tutte le risorse a questo punto perché... No, non ci credo! Non ci credo! Che è successo? Cosa è successo? Cosa è successo? L'hai visto? Cosa è successo? Cosa è successo? Qualcuno è morto sedendosi? No! No! Per il momento vanno eliminati i nomi di... Me! Addio! A me dispiace moltissimo di questo... Vai, è il tuo favorito! E' giusto! Hai favorito, Sre! E' stata molto combattuta! Potrei decidere di rinserirlo in gioco contro Chico a qui! Chat! Dai, si vuoi male! Aiuto! Vediamo come va questo! Lo scontro pazzo sgravato, attenzione! Questo tra imbecilli, eh! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!